Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale Salati Preziosi StumbleGuys Puoi, non è sicuro, trovare una fantastica sorpresa E abbiamo qua qualche personaggio di StumbleGuys che io conosco veramente poco StumbleGuys è praticamente la brutta cosa di Fall Guys Lo dici così? Pensa alle patatine di Fall Guys Sarebbero state belle Sono uguali Penso che sui miei non si può neanche scaricare Devo giocarci da Google Ho giocato una volta Le piattaforme sono praticamente uguali Guarda anche qua Però non deve avere la Play Ma puoi giocarci da telefono C'è anche Fall Guys da telefono Ma sì, veramente Fall Guys è un po' che non si gioca Adesso accendo la Play che c'è una partita No Vediamo Patatine numero 2 Per numero 2 perché oggi ne abbiamo fatte due Certo che potrebbero fare le patatine di Roblox Eh sì Patatine Buona Allora 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 abbiamo trovato il bello Io mangio patatine Allora StumbleGuys personaggi C'è personaggi Magari questi personaggi sono adesivi E cartoncino numero 1 Cartoncino numero 2 Cartoncino Basta? Sì 2 E primo personaggio Cyborg Cyborg Carino Uno squalo un po' Uno squalo un po' marrone Però belli i denti Poi? Scegli uno o due Uno E poi abbiamo trovato Cleopatra O comunque egiziano Scegli due Due E poi Frankenstein Il dottor Frank No il mostro del dottor Frankenstein Per molti dicono Frankenstein No Lui è il mostro del dottor Frankenstein Colui che ha creato il mostro di Frankenstein Stai molleggiando Ma tu hai la maglietta Hai usato le tempere oggi? Lo so Non puoi Devi toglierla con la maglietta No C'hai le stelle praticamente Come se fosse Vabbè Quindi Sì bello che questa è anche una maglietta Scuola d'arte Vabbè Allora Io faccio teatro Esatto Vi racconteremo anche la sua esperienza teatrale Però magari si lava via Dato che è temperatura Faremo Faremo Eh? No mi è venuta a dire Faremo Faremo Eh no zio Faremo una face reveal Chi lo sa Eh Aspettate Chi lo sa Allora Eh Stallati preziosi Patatine con sorpresa Stumble guys Quattro adesivi E questo è quello che abbiamo trovato Quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale Mettere un like Condividere Commentare Schiacciare la campanella per essere ragionati su tutti i video Ma soprattutto commentate Perché a me A me A me A noi e me Intendevo A noi e me Piace rispondere Spesso sono io Però chiedo Quasi sempre la supervisione a Sara Per dire Sto scrivendo questa Va bene? Sì va bene Ok Quindi salutiamo tutti gli aficionados E come sempre Noi vi salutiamo Ci vediamo al prossimo video Ciao